La musica lirica non è semplice, è un pochino difficile e speriamo che vada tutto bene, che sia una bella serata, che tutti siano contenti. ...che magari hanno dei problemi e noi li risolviamo così. E siccome noi non siamo persone tristi, Carla, vorremmo far capire alla gente che intanto sorridere non costa niente, il sorriso è veramente una bella cosa, la gioia ancora di più e questa sera vogliamo proprio iniziare con un brano musicale, mi sembra, vero Carla? Vogliamo essere allegri? Ma io direi proprio che hai ragione. ... E la che vuolò la città di avanti a vivione i tuoi libretti Grazie a tutti. Grazie a tutti.